Con i suoi 15.000 metri quadrati di giardini ben curati, la sala interna, gli ampi spazi esterni, la piscina e il ristorante, offre un'ambientazione perfetta per ogni tipo di evento. Villa Italia! Seguiteci sui social, visitate il nostro sito e veniteci a trovare. Vi aspettiamo! Non ho nulla da recriminare né da rimproverarmi, la mia coscienza è a posto. Con queste parole, il sindaco di Vietri sul Mare, Franco Benincasa, è intervenuto all'indomani della condanna ad otto mesi per il reato di abuso d'ufficio sancita dai giudici della Corte d'Appello di Salerno, per la questione relativa al crollo del costone roccioso del Baia nel maggio 2009. In primo grado, il sindaco era stato assolto dalle accuse a lui ascritte. Secondo il pubblico ministero, Benincasa aveva revocato troppo in fretta l'ordinanza adottata all'indomani della frana dal commissario straordinario che guidava prima di lui il comune di Vietri, consentendo la riapertura parziale dello stabilimento barneare. In una nota, il primo cittadino vietrese, oltre a difendersi dalle accuse a lui ascritte, annuncia anche ricorso in cassazione. Nell'ordinanza che ho firmato appena tre giorni dopo la mia prima elezione al sindaco, spiega bene in casa, si dava atto che erano stati depositati al comune una serie di documenti e certificati, tra cui la perizia giurata dei geologi e dell'ingegnere, i certificati di ultimazione dei lavori e di collaudo, così come l'analoga ordinanza emessa dal comune di Salerno con la quale venivano liberate 24 stanze dell'albergo. Ho agito nell'interesse di Vietri e dei vietresi, sia per i dipendenti che per l'immagine e l'economia del paese, poiché la mancata sottoscrizione avrebbe comportato un'ispiegabile omissione ed avrebbe fatto rischiare il posto di lavoro a circa 50 dipendenti. Tuttavia, prosegue bene in casa, nutro delle sere perplessità sulla mia condanna, anche perché al momento dell'emissione dell'ordinanza incriminata la frana era caduta da oltre un mese ed il costone era stato messo in sicurezza e con essa veniva revocata solo parzialmente la precedente ordinanza emessa dal commissario prefettizio il 12 maggio 2009. Fare l'amministratore pubblico, conclude il primo cittadino, non è cosa facile. Si opera quotidianamente sul filo del rasoio tra l'abuso di ufficio e le emissioni di atti di ufficio, con la responsabilità civile verso terzi davanti e la Corte dei Conti dietro la nuca. Sul capo del primo cittadino pende ora la scure della legge Severino, che prevede la sospensione degli amministratori pubblici in seguito ad una sentenza di condanna. Tuttavia, il sindaco bene in casa, assistito dall'avvocato Silverio Sica, ha fatto sapere che attende le motivazioni della sentenza e poi presente la ricorso in Cassazione. Intanto, la condanna del sindaco bene in casa ha innescato una serie di reazioni politiche nel comune costiero. Sulla vicenda, dopo il commissario cittadino di Forza Italia, Davide Scermino, è intervenuta anche la portavoce cittadina di Fratelli d'Italia, Tiziana Bene in Casa. Qualora fosse applicata la legge Severino, la maggioranza, oggi tale solo grazie all'appoggio dei consiglieri Borrelli e Granozzi, rischia di perdere il sindaco. In tale scenario, evidentemente già precario di per sé, chiediamo all'amministrazione bene in casa un atto di responsabilità, porre fine alla consigliatura e ridare la parola ai cittadini per un sereno governo del territorio. La condanna del sindaco bene in casa sicuramente sarà anche al centro del dibattito politico nel corso della seduta di consiglio comunale, in programma questa sera alle ore 18.30.